Per essere le strade abbiamo fatto zuppetta di lenticchie, ceviche di orata e plastica commestibile, quindi ci siamo legati a quello che è il tema nostro dell'isola, il plastic free e quindi abbiamo fatto degli amidi cristallizzati che rendono un po' l'idea della plastica rotta che sta nel mare. Via! Vai! Grazie! 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 Grazie!